Il mistero e il segreto dietro l'hypnosis non verbale e il mesmerismo. Resultati delle mie ricerche. Per te, per il tuo sviluppo personale, per la tua vita e per diventare un professionale con i risultati più alti. Per me e per tutti i risultati più alti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.